... Due amici, i gradi, tre, Valentina Giago, quattro, parte immediatamente con questa splendida finale italiana e l'accogliamo con un grande, grande applauso. Occhi e l'arrivo sul campo, cala tutta. Valentina Sano, primo punto del... ... 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 Specialità di Casa Caracuta, Bagherone Lungo, numero 6, sempre, attenzione, attenzione, Salino e tre, 11-5, Caracuta, risposta è aperta in faccia, punto, e buono vincente, Valentina a Zago, attenzione, Casa Maggiore mette in coscia, Salino e tre, 11-5, Stefano Sassi, chiama a Tanauga, 5-12, e approfitto per chiedere ancora la nuova di questa finale del campionato di Magano, e da questo punto Valentina a Zago, unicina di Casa Maggiore, si conferma, campione di Magano, unicina di Casa Maggiore, e ancora, campione di tag, si dice di nuovo, lo studiato, e lo saluto di Tanauga, che hanno dato, comunque si, che l'anno diciamo. Sassi, vi prego, non direi un applauso anche a due squadre, perché sono meritato davvero. 3-4-4, Samsung, Benavone, Sandal Tour, UBC, Abis, Casano Baccione! Attacco Baccione! Samsung, Benavone, Sandal Tour, UBC, Abis, Casano Baccione!